Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Ci lasciamo introdurre da alcune affermazioni di Santa Benedetta. Ecco qui una sua foto scattata nel 1858, proprio l'anno in cui ebbe le apparizioni della Madonna. Benedetto Subiru è morta a 35 anni a causa di un'asma violenta che la faceva soffrire tanto. Sono state raccolte alcune sue affermazioni che fanno tanto pensare e formano il testamento di Benedetta. Dice così, per la miseria di mamma e papà, per la rovina del mulino, grazie mio Dio. Bocca di troppo io ero da sfamare. Grazie, oh mio Dio, per il procuratore, per il commissario, per i gendarmi, per le dure parole della Beppe Iramal, che all'inizio non credeva a me. Grazie per i giorni in cui siete venuta, Vergine Maria. E per quelli in cui non siete venuta, non vi saper rendere grazie altro che in cielo. Ma per lo schiaffo ricevuto, per le beffe, per gli oltraggi, per coloro che mi hanno presa per pazza, per coloro che mi hanno presa per bugiarda, per coloro che mi hanno presa per interessata, grazie Madonna mia. Per l'otografia, che non ho mai imparato, per la memoria, che non ho mai avuto. Per la mia ignoranza, per la mia stupidità, grazie Maria. Grazie, perché se ci fosse stata sulla terra, una bambina più ignorante, più stupida di me, avesse scelto quella. Per mia madre, morta lontano, per la pena che ebbi, quando mio padre, invece di tendere le mani verso la sua piccola Bernardette, ebbe quasi timore di me, e mi chiamò Sor Maria Bernarda, come ci rimasi male. Grazie, per l'abbeverato di amarezza e questo cuore, troppo tenero, che mi avete dato. Per madre Giuseppina, che mi ha proclamato buona a nulla, grazie. Per i sarcasmi della madre maestra, per la sua voce dura, per le sue ingiustizie, per le sue ironie, per il pane dell'umiliazione, grazie Vergine Maria. Grazie per essere stata quella privilegiata nelle improveri, di cui le sorelle dicevano, meno male che non sono ben addetta. Grazie essere stata ben addetta e subito. Minacciate di prigione perché avevo visto Vergine Maria, guardata come una bestia rara dalla gente. Grazie per questo corpo miserando che mi avete dato, per questa terribile malattia di asma, per la mia febbre, per i miei dolori sordi e acuti. Grazie mio Dio. Tutto per me è diventato occasione per fare atti di fede e atti di amore, per potermi unire di più alla passione di Gesù. Grazie Gesù, grazie Vergine Maria. Introdotti da queste parole che fanno tanto riflettere, facciamogli viaggio tra i misteri del dolore. Il primo mistero ci porta nell'orto degli olivi. Gesù soffre fino a sudare sangue mentre pende su di sé i peccati di tutta l'umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro Pai quotidiano e rimette a noi i nostri piedi, come anche noi rimettiamo ai nostri creditori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le armi, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria immacolata e di tutti i santi, concedi il Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, per venti religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore mette davanti ai nostri occhi Gesù flagellato. Pensate ai flagelli, erano delle cordicelle che terminavano con delle punte acuminate, fatte ad uncino, per cui strappavano la pelle. Il dolore che ha patito Gesù per noi è inimmaginabile. E perché? Per amore nostro. Per tirare fuori della sua umanità tutto l'amore possibile e dare alla nostra storia una direzione nuova, una direzione nuova, una direzione santa, una direzione giusta. Padre nostro, che se sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo sereno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo sereno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo sereno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo sereno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo sereno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo sereno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo sereno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo sereno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo sereno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo sereno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria a te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando, perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi i genitori, santi i vestiti, sacerdoti e di amico, per venti religiosi, religiose e missionari alla tua città. Il terzo mistero del dolore ci presenta Gesù coronato di spine. La corona di spine non era altro che un masso di rovi presi nell'angolo del piatorio di Pilato e messi sul capo di Gesù. Una grande umiliazione, sicuramente in riparazione di tutti i peccati di orgoglio che ancora si commettono ogni giorno nel mondo. E l'orgoglio è la rovina dell'umanità. E la causa di tutte le discordie, la causa di tante, tantissime guerre che ancora minacciano il mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane e poi viviamo, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta a fare donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colte. Preservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anni, specialmente le più bisognose della tua misericordia. mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando, perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diacoli, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua testa. Il quarto mistero e dolore ci mette davanti Gesù che viene caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario, accompagnato dalla sua Santissima Madre, sempre fedelmente accanto a Gesù, accanto al Figlio, fino all'ultimo respiro sulla croce. Non pensate che sia stato semplice accompagnare il Figlio al luogo dell'esecuzione. Maria però credeva e sapeva che quella sofferenza era una manifestazione di un'onipotenza di Dio come un'onipotenza di amore. Non era facile credere. Maria però era un gigante nella fede. Padre nostro. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo così interna. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Com'era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le animi, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando, perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vecchi, sacerdoti e diatari, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci invita a posare lo sguardo sul crocifisso. Forse difficilmente capiamo anche noi oggi tutto il messaggio che viene dal crocifisso. Pensate, San Francesco, ogni volta che pensava a Gesù crocifisso, scoppiava a piangere. Pensate, parla Damiano de Wester, un missionario coraggiosissimo belga, che andò a vivere nell'isola dei Lebrosi a Molokai, aveva il crocifisso in mano e disse, con lui non ho paura di affrontare neanche un'isola di Lebrosi. Pensate, Mere Teresa, sulla spalla sinistra, teneva sempre un piccolo crocifisso. Quando andò nello Iem, per prendere la cura di una casa dove erano ricoverati dei Lebrosi, si presentò con il crocifisso sulla spalla. Le dissero, madre, questo va tolto. Le rispose, sappiate che lo facciamo per lui, e indicò il crocifisso. O entriamo tutti e due o non entra nessuno. E così è entrata nello Iem, dove dopo poco tempo le hanno ucciso due suore e poi altre tre. E lei disse, restiamo perché lì c'è odio, il crocifisso porta amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane e poi diamo, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Maria, la città e il mare. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, presentati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le amme, specialmente le più bisognose della tua misericordia. mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, domando, perdono per quelli che non credono, non adorano, non spero e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi il Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e di amma, ferventi religiosi, religiosi e missionari, alla tua chiesa. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, cementi e piangenti, in questa valle di là. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo segno, o clementi e o pia, o dolce e vergine Maria. Signore, pietà, Cristo, pietà, Signore, pietà, Signore, pietà, Signore, pietà, Cristo, ascoltaci, Cristo, esaudiscici, Padre Celeste, che sei Dio, figlio Redentore del mondo, che sei Dio, Spirito Santo, amore, che sei Dio, santa trinità unico Dio, santa Maria, santa madre di Dio, santa vergine delle vergini, madre di Cristo, madre della Chiesa, madre della divina grazia, madre della fiducia, madre purissima, madre castissima, madre sempre vergine, madre sempre vergine, madre immacolata, madre degna di amore, madre ammirabile, madre del buon consiglio, madre del creatore, madre del salvatore, vergine prudentissima, vergine degna di lode, vergine potente, vergine clemente, vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepiti, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina del santo rosario, regina della pace, vergine lauretana, prega per noi, prega per noi, santa madre di Dio, preghiamo santa benedetta, alla quale apparve la Madonna, presentandosi come la vediamo qui, in questa statua. piccola benedetta, dal cielo, dove hai ritrovato Maria, prega per noi, affinché non perdiamo mai di vista la meta della vita. Tu hai conosciuto la miseria più nera, ma la tua casa era piena di Dio, e con Dio si è felici anche nella povertà. Tu hai provato ogni sorta di umiliazione, però Maria ti ha sorriso e ti ha messo ai primi posti nella graduatoria dei figli di Dio. Tu hai sofferto a causa di tante malattie, ma hai detto che eri più felice di una regina, perché nella tua anima non attecchivano l'orgoglio e l'egoismo, che sono le vere malattie dell'umanità. piccola benedetta, pensa a noi, mentre vedi la bellezza di Maria, e con la tua preghiera, ottienici il dono della semplicità e della purezza, dell'umiltà e della generosità, per poter un giorno gioire con te nella festa dei Santi. Ami. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Sia benedetto il nome del Signore. E con il tuo Spirito. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E che ha fatto scelta il vero. Vi benedica, vi protegga, vi illumini, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Seguiamo la strada dell'umiltà, della semplicità, che ha seguito Santa Benardette, lasciandosi guidare dalla Madonna, la Regina degli Umili. Sialodato Gesù Cristo. Sempre sialodato. Sialodato Gesù Cristo. Sialodato Gesù Cristo.